Kosovo. Stop a veicoli a targhe serbe da aprile. Belgrado protesta e contro l'accordo di Bruxelles. Il ministro dell'interno kosovaro Bayaram Recepi ha detto che tutti i veicoli con le nuove targhe serbe relative a località kosovare non potranno più entrare in Kosovo a partire dal 1 aprile prossimo. Dal 1 giugno inoltre anche le auto con le vecchie targhe serbe recanti le iniziali di città kosovare saranno anch'esse in possibilità di entrare in Kosovo. Per entrare sarà necessario procedere a una nuova registrazione delle auto e delle relative targhe. Tali direttive, ha detto il ministro, sono in linea con l'accordo sulla libertà di movimento raggiunto nell'ambito del dialogo tra Belgrado e Pristina. Secondo Recepi, coloro che vorranno fare una nuova registrazione delle auto e richiedere targhe kosovare dovranno essere in possesso di un documento di identità del Kosovo, di una patente e di un certificato di nascita. I cittadini kosovari, che hanno documenti serbi, ha aggiunto, potranno conservarli se lo vorranno. Di avviso contrario, sulla nuova direttiva sulle targhe automobilistiche, si è detto invece Oliver Janovic, viceministro serbo, che con le questioni è sul Kosovo. A suo avviso si tratta di decisioni contrarie all'accordo raggiunto tra le parti a Bruxelles con la mediazione UE. Per Janovic, peraltro, è difficile che i serbi del nord del Kosovo decidano di munirsi di documenti kosovari. Ansamed Grazie da Antonio Conte, da Rassegna Stampa Militare